Ciao a tutti, io sono Michilan e benvenuti in questo nuovo video di unboxing. Bene, poco Come è arrivato? Cosa ci sarà mai dentro? Beh, dal titolo l'avete già visto e ora vi spiego anche il perché. Allora, innanzitutto con Vitasnella, mi stai chiedendo, ma perché Vitasnella? Beh, Vitasnella crea quest'acqua qui, l'acqua che elimina l'acqua come dice la pubblicità e praticamente quando voi andate ad acquistare le casse di Vitasnella, sia piccolina che grande, all'interno della cassa, al centro, trovate dei fogliettini. Con questi fogliettini accumulate dei punti e con dei punti li caricate direttamente su un'applicazione, adesso vi faccio vedere, si chiama Tu al meglio, me la clicco così almeno potete vederla meglio, eccola qua, Tu al meglio. Vedete una volta che la scaricate, vi registrate con tutti i vostri dati, facciamo accedi, che mi sono logata con Facebook, quindi mi accede subito. Adesso ho un saldo di 0 punti, perché io il regalo l'ho appena preso. Quindi, con ogni tagliandino, dentro una cassa da 6, trovate questo punto, questo codice, un codice, un punto. E poi potete scegliere, se prendete, perché ne so, scarpe, che costano 120 punti, scarpe della Nike, oppure toppini da donna, magliette da uomo, pantaloni da uomo, pantaloni da uomo e altri accessori. Vi faccio vedere molto velocemente, così almeno andiamo direttamente all'unboxing. Allora, caricando, quindi vi fa vedere qui, che una cassa corrisponde a un punto, ci sono magari i premi, magari delle spa, benessere, quindi con 6 punti. Poi andiamo a 12, magari c'è una spa per 2, ci sono delle cene, ci sono i buoni da spendere, magari vedete con 12 punti al 15% di sconto da Douglas. Però i legali, quelli davvero importanti e interessanti, sono 52 punti. Iniziamo con le magliette della Nike, pantaloncini e pantaloni della Nike, toppini da donna della Nike, sempre 52 punti. Piano piano ci alziamo, e qua troviamo pure il cappellino, il borzone, poi troviamo elettrodomestici, attrezzi per il lavoro del corpo, per i bambini, quindi poi Power Bank, 52 punti, e a correre di ammudi le scarpe, perché io so che ho preso le scarpe, 120 punti. Adesso ve le faccio vedere, però non vi dico, sinceramente qua li ho preso, quindi sarà una sorpresa, ve le faccio tutte vedere, spero che si veda. Poi abbiamo il phone, il grill, la macchina di pane, vaporiera, tanti altri legali, anche c'è il visore, quello là però con il telefono della Samsung Gear. Poi ci sono le casse, bluetooth, gioiellini, altre cose. Power Bank, sempre la lampada, quella che si illumina, è un Power Bank invece per il telefono, lo sanno la Samsung Gear. Quindi, beh, diciamo che adesso vi ho mostrato tutto. E adesso passiamo alla parte più bella, no? Cioè, dopo che mi sono bevuta tutta quest'acqua, ah, una cosa che non vi ho detto, il concorso si svolge ogni anno. A partire, mi sembra, inizia sempre a marzo, finisce il 31 dicembre, quindi se la potete fare adesso, mi spiace, ma ormai sta terminando il 31 dicembre alle porte, e non penso arrivate a 120 punti in fretta o a 52, però, anzi, a 52 sì, potete provarci se volete, magari vi prendete la maglietta, pantalone, un borzone della Nike, meglio di niente. E quindi, mi raccomando, ci sarà pure il prossimo anno, quindi io parteciperò di nuovo perché io ho partecipato anche l'anno scorso. Io ho preso ben due paia di scarpe, uno per me e uno per il mio compagno. E adesso andiamo ad aprire. L'olore d'amore. Forbicione. Andiamo a incidere qui. Questa scatola dei desideri. Attenzione. Non si apre, ma dopo. Aspetta, forbicina, aiutami qui. Questo scotch è cattivo. Ok, pacco aperto. All'interno troviamo il foglietto di Tu al meglio. Ciao, il tuo premio è arrivato. Ti informiamo però che l'articolo da te richiesto non era più disponibile. Quindi abbiamo pensato di inviarti un premio dello stesso tipo, di valore maggiore o uguale. Ti aspettiamo su tualmeglio.com. Perfetto, quindi quello che io ho ordinato, finito e mi hanno mandato un'altra cosa. Andiamo a vedere che cosa. Allora, sono sempre un paio di scarpe, quindi a posto. Numero è giusto, io porto 36,5. Andiamo a vedere quali sono. Il rollo dei tamburi. Facciamo così, così vedete anche voi. Ah, ok, meno male, sono quelle bianche e nere. Meno male che non sono di altri tipi di colori. Eccole qua. Le faccio vedere. Guardate che belline. Molto, molto belle. Eccole qua. Bene, bene. Poi le proveremo. Così vediamo come sono. Bene. Questo unboxing, veloce, veloce, è terminata. Grazie a vita snella, così l'ho beccata con un paio di scarpe nuove e queste se le andavo a comprare stavano intorno sui 100 euro per giù, perché mi erano andata a informare un negozio della Nike. E bene, se anche voi conoscevate di questo concorso, oppure no, scrivete nei commenti. Cioè, chi lo conosce, commenta magari se ha già preso qualcosa e con quanti punti sei arrivato. E la seconda, se è interessata a partecipare al concorso il prossimo anno, ci possiamo dare e incoraggiare, perché comunque il prossimo anno ci saranno più premi. Bene. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Scrivetevi, attivate sempre la campanellina, in modo tale che ogni volta che esce un video lo vedete impegnatamente. Scusate se non ho fatto video, però lo sapete, durante il periodo festivo i video continuano ad essere un po' di meno, non solo per me, ma anche per gli altri youtuber. Comunque dopo le feste si svolgeranno più video, cioè ci saranno più video e avremo una continuazione più assidua, anziché di così una volta a settimana. Ok, adesso vi saluto, ciao ciao, un bacione, ciao! Ciao!